Musica Ma stanno scappando Musica Eccolo qua, piano piano, tale in tempo Mi sta salutando, era lui che cittava in gabbia Ma vuole sottarmi, non glielo consigliere Non glielo consigliere, non vuole che mi sa come Ma lo faccio fisiare, mi tiro la macchiello Allora prende il protettatore Il cibo, mi faccio rilevo i cibo Musica Musica E' Sergio Lizzi che mi propone questa immagine dal circo di centra di toni con i suoi meravigliosi, giovanissimi, splendidi e aggressivi leoni. Sergio Lizzi è chi mi ha accompagnato in gabia ed era praticamente la mia carta di sicurezza. Presentazione al pubblico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.